di Cesena e di Tiene. Oggi si celebra la festa del Signor de los Milagros, molto sentita a Lima e in tutto il Perù. Rivolgo un grato pensiero al popolo peruviano e alla comunità peruviana di Roma. Domenica scorsa eravate qui con l'icona del Signor de los Milagros, io non me sono accorto. Tanti auguri nel giorno della festa e saluto con affetto la comunità venezuelana in Italia, qui radunata con l'immagine di Nostra Signora di Cichinchirà, la Cinita. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e buon pranzo. Grazie. 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 Grazie.